Io sono Alessia e in Fonte Margherita mi occupo delle analisi delle acque minerali e del controllo qualità. Regolarmente vado presso le sorgenti per fare un controllo delle acque, è la parte più divertente del mio lavoro in quanto sono a contatto con la natura all'aria aperta ed è la parte che ovviamente mi piace di più. Alle sorgenti principalmente viene controllata la microbiologia in modo da garantire sempre un prodotto microbiologicamente puro come devono essere le acque minerali e anche perché come prevede la legge italiana le acque minerali non possono assolutamente essere trattate in alcun modo. Fonte Margherita nel 2017 ha fatto una scelta che è quella di utilizzare dei prodotti quanto più sostenibili. Il trend del mercato è già questo da anni quindi imbottigliamo solo in vetro e cercavamo un prodotto che fosse sostenibile, richiudibile e facilmente trasportabile, un'alternativa alla bottiglia da mezzo litro in plastica. In Fonte Margherita imbottigliamo 5 acque minerali, 2 minimamente mineralizzate, 2 oligominerali come quella che viene confezionata nel Gable Top e una ricca di sali minerali che è considerata un'acqua storica della zona. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Feelgood che è una startup di Galdi che ci ha guidato nella scelta del contenitore e nella soluzione di confezionamento dalla macchina fino al contenitore stesso. La scelta del Gable Top è stata molto facile, per noi è stato meno facile, qui Feelgood ci ha dato una grossa mano nello sviluppo tecnico della soluzione. Ci ha presentato gli studi sensoriali che ci hanno fatto capire che il Gable Top avrebbe potuto essere una soluzione ideale per il nostro prodotto. Da lì abbiamo cominciato gli studi che ci hanno portato a trovare una soluzione di confezionamento con una macchina Galdi e un packaging studiato e sviluppato insieme. Tutte le nostre acque sono un patrimonio del nostro territorio che è importantissimo, sono tutte acque di montagna perché comunque sono ad una certa altitudine e portano dentro di loro, hanno il sapore delle rocce su cui scorrono, per cui preservano il gusto e il sapore delle nostre montagne che sono le piccole Dolomiti. Per questo è fondamentale lo studio che facciamo sul packaging perché comunque deve preservare tutte le qualità e le caratteristiche dell'acqua alla sorgente. Il packaging sullo scaffale è un biglietto da visita per ogni azienda che vuole presentarsi come ecosostenibile. Ci confrontiamo spesso con il professore Alessandro Manzardo dell'Università di Padova per quanto riguarda i trend e gli studi LCA, cioè Life Cycle Assessment, dei contenitori e dei packaging sul mercato. Fonte Margherita ha deciso di lanciare due linee di prodotto di GableTop, una per la GDO e una per l'Oreca. Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla distribuzione del prodotto, sia in Oreca, visto che il prodotto Fonte Margherita adesso è distribuito in molti locali, e anche nell'apertura di altri canali, quali il vending, dove ha sostituito la bottiglietta di plastica da mezzo litro. Con Fonte Margherita ci siamo capiti al volo, abbiamo gli stessi valori, la stessa mission. Stiamo cercando di diffondere sul mercato la cultura dei contenitori sostenibili. Ci siamo piaciuti al primo momento perché Feelgood e Fonte Margherita hanno un'idea di business molto simile. La collaborazione è stata proficua, tanto che oltre alla versione a 50 centilitri stiamo lavorando sulla versione a 33 centilitri che può andare ad intercettare un altro segmento di mercato che attualmente non copriamo.